Fischio d'inizio che arriva ora e dunque buon divertimento per Hellas Verona-Napoli. Meneghini che perde però palla in una zona pericolosa. Ora il Napoli che si conquista così il calcio di rigore con questa palla persa dal Verona in uscita. Spiazzata Shor, vantaggio del Napoli che quindi si porta sul punteggio di 1-0 dopo 4 minuti. Nella zona di Faria che spizza per Pinna che riconquista palla, entra in area, prova a servire Faria con il piattone sinistro. Da buona posizione l'occasione per il Napoli. Passaggio all'indietro per Shor che rinvia, un po' corto il rinvio di Shor. Il pallone resta comunque per il Verona. Ora Peretti che va in verticale per Croin, lanciata in area di rigore. Croin che va giù al momento della conclusione, forse ostacolata. Attenzione qui perché potrebbe esserci contropiede per il Napoli. Con Faria chiusa, ma si chiude anche la prima frazione di gioco. Due le volte in cui sono state fermate in posizione di fuorigioco le giocatrici del Napoli che però ora si fanno nuovamente avanti con questa conclusione di Gonzales. Ora il lancio lungo però è per Gonzales sulla sinistra, lato corto dell'area. Pallone in mezzo per Pinna che controlla di punta. Verticale su Ledri che fa passare questo pallone. Tenta di arrivare sul fondo. Cross in mezzo dove non arriva Peretti con la testa, non arriva nemmeno Bison. Pallone che però è di nuovo tra i piedi di una giocatrice giallubru. Si tratta di Giai per la corrente Pechini. Cross in mezzo per la numero 36. Bison neoentrata, o meglio subentrata nel primo tempo che trova il gol dell'1-1. pallone che però viene respinto dalla difesa del Verona. Attenzione al tiro dalla lunghissima distanza da parte del Napoli. Ma finisce qui dopo 93 minuti. Ellas Verona e Napoli pareggiano per 1-1.